che ciri qua così guarda la benzina che prende fuoco guarda come è diventato dorato il coso non era mica così dorato il collettore ma guarda che ormai è così guarda se ho ancora il segno dell'altra volta di questo modo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.